io nel sangue ho i coriandoli chiamo armando laera ho 53 anni e da ben diciamo 45 partecipo al carnevale putignano la propagine è per i putignanesi un momento che possiamo denunciare tutto quello che non va per esempio a putignano e il fatto che poi la propagine quel giorno ti dà la possibilità di dire la tua in rima ben venga alla propagine perché io quel giorno mi sbotto e dico tutto quello che stava da fare e non hanno fatto ne viene tanta gente a vedere viene proprio apposta per sentire quello che noi diciamo le denunce che noi facciamo ecco siamo diventati come degli eroi putignani totunust mangi bif e cacatust